Ha le idee chiare e sembra promettere una piccola rivoluzione il neosegretario generale del comune di Piacenza, Vincenzo Filippini. Fino al 31 luglio dividerà il suo impegno con il comune di Savona e proprio dalla città Ligure vorrebbe importare alcune novità che potrebbero rendere più agile l'attività del nostro Consiglio Comunale. Nel 2013 a Savona ci sono stati 9 consigli comunali mentre a Piacenza ben 44. Filippini lancia due proposte per rendere più agile l'attività, più lavoro nelle commissioni e tempi di intervento ridotti a un terzo ad esempio 10 minuti a testa anziché 30. È uno degli aspetti che secondo me dovrà, ma credo che si stia già affrontando nelle sedi competenti come commissioni e sottocommissioni alle quali darò il mio contributo di esperienza e di casistica diversa sempre e comunque nel rispetto dell'organo che è il decisore in ordine a questi argomenti. Non gli mancano però già i grattacapi, come il ricorso al TAR perso dal comune per la nomina del dirigente del settore risorse con tanto di appello al Consiglio di Stato e l'ispezione del Ministero delle Finanze. Queste sono in pratica pratiche molto delicate, molto complesse che richiedono un'istruttoria molto importante. Ci stiamo lavorando, ci abbiamo già lavorato, continuiamo anche, credo, nelle prossime settimane chiudiamo alcune risposte che dobbiamo dare. Ho sottolineato la necessità di non sempre guardare alle cose che spesso una procedura ispettiva può portare o evidenziare come critico ma anche e soprattutto, come nel caso del comune di Piacenza, la relazione ispettiva porta 25 apprezzamenti in alcuni dei casi con un giudizio di eccellenza. Il sindaco Paolo Dosi ha chiarito che Filippini ha assunto solo l'incarico di segretario generale e non di direttore generale. Figura che non è scontato venga riproposta. Grazie a tutti.